La scorsa notte un devastante incendio ha colpito un condominio di dieci piani nel quartiere Tang Suan di Hanoi, Vietnam, causando decine di vittime. Le cause dell'incendio sono ancora sconosciute, mentre i vigili del fuoco e le squadre di soccorso stanno cercando le persone che si trovavano nell'edificio al momento dello scoppio. Finora sono state confermate 11 vittime, ma si prevede che il bilancio aumenterà nelle prossime ore. Circa 70 persone sono state salvate dai vigili del fuoco, ma 54 di loro sono ora ricoverate in ospedale per le ferite riportate. Tuttavia resta ancora un numero significativo di persone disperse e le speranze di trovarle ancora vive si stanno affievolendo con il passare del tempo. L'incendio è iniziato intorno alle 23.50, l'edificio interessato occupava un'area di circa 200 metri quadrati. La comunità è sconvolta da questa tragedia ancora senza spiegazioni.